Mi chiamo Poli Paolo, sono direttore dell'unità operativa di terapia del dolore dell'azienda ospedaliera universitaria Pisana. La mia carriera nel campo del dolore è iniziata nel 1988. Mi sono sempre occupato esclusivamente del dolore cronico e attraverso la cura del dolore cronico sono arrivato alla neurostimolazione già nel 1991 con il primo impianto. Attualmente, alla data di oggi, abbiamo eseguito oltre 460 impianti di neurostimolazione e 400 impianti di pompe totalmente impiantabili. Questa è una unità operativa complessa, multidisciplinare. Abbiamo anticipato quella che è stata la legge sul dolore, in quanto già da anni operano in questa unità operativa più figure specialistiche. Neurologi, internisti, reumatologi, psichiatri e psicologi. Questo è sempre stato l'indirizzo che abbiamo avuto proprio per la gestione del dolore, in quanto il dolore cronico è una malattia che deve essere affrontata proprio da più specialisti, dato le grandi sfaccettature che presenta. Nella nostra unità operativa viene eseguito la maggior parte di tutti gli interventi, sia farmacologici che non farmacologici, invasivi per il controllo del dolore cronico. Ci occupiamo, ripeto, esclusivamente del dolore cronico, quindi partendo dalle terapie farmacologiche, prime visite e trattamenti farmacologici, fino ad arrivare a trattamenti complessi di alta tecnologia, quale l'impianto delle pompe e l'impianto dei neurostimolatori. Il dolore cronico è una malattia, una malattia che noi terapisti del dolore consideravamo già da molti anni, prima ancora della realizzazione e della promulgazione della legge del 2010. Il dolore cronico è una malattia invalidante, una malattia che abbelena la qualità di vita dei pazienti e che rende il paziente incapace di eseguire determinati lavori, determinate attività, anche le attività casalinghe, le attività più semplici. È una malattia che costa tantissimo al nostro Stato, perché costa il fatto che queste persone non possono lavorare, non possono produrre e quindi addirittura sono costrette molto spesso a ricoveri frequenti, sono costrette a ricorrere al medico di medicina generale frequentemente, quindi ha dei costi estremamente elevati. Se noi riusciamo a togliere la malattia dolore a questi pazienti, riusciamo a ridargli una buona qualità di vita e addirittura in certi casi riusciamo anche a far ritornare queste persone al lavoro, riducendo quindi le spese dello Stato. Come sappiamo bene, il dolore cronico si divide in dolore nocicettivo e dolore neuropatico. Il dolore nocicettivo è un dolore che possiamo controllare, possiamo controllare molto spesso farmacologicamente, con farmaci quali gli opioidi. abbiamo avuto una grossa evoluzione negli ultimi anni in Italia, pensare che negli anni 90 avevamo a disposizione solamente la morfina, ora invece da un punto di vista farmacologico abbiamo a disposizione tantissimi farmaci che ci aiutano a controllare il dolore nocicettivo. Per quanto riguarda invece il dolore neuropatico, un tempo chiamavamo il dolore neuropatico la grande bestia, la brutta bestia proprio, perché era un dolore che non riuscivamo a contenere e a controllare sia con i farmaci che con le tecniche invasive che avevamo allora a disposizione. La neurostimolazione ha rappresentato invece un grande passo avanti, un grande passo avanti proprio per il controllo di questo tipo del dolore. Addirittura molto spesso riusciamo a controllare molto bene il dolore neuropatico con la neurostimolazione e dobbiamo ricorrere sempre ai farmaci per quanto riguarda invece il dolore nocicettivo. Il dolore neuropatico è un dolore continuo, un dolore che il paziente riferisce come prurito, come formicolio, come corrente elettrica, una cosa semplice, molto simpatica che dicano in Toscana come un cane che morde. È la continuità di questo dolore che rende veramente la vita molto complicata e difficile da vivere. La malattia dolore in Italia colpisce il 26% della popolazione, quindi si parla di 16 milioni di abitanti, mentre all'interno del dolore cronico in Italia il dolore neuropatico colpisce il 10% di questi 16 milioni, quindi 1 milione e 600 mila pazienti. 1 milione e 600 mila pazienti, quindi sarebbero quei pazienti che avrebbero necessità di un impianto, di un neurostimolatore per il loro controllo del dolore o perlomeno per il miglioramento della loro qualità di vita. La legge del 2010 ha dato una risposta a quello che noi terapisti del dolore, ma più che altro a quello che i pazienti affetti dal dolore cronico chiedevano da anni, quindi un trattamento specifico per la malattia dolore. Siamo il primo paese del mondo che ha pubblicato una legge che è molto importante questa legge, non solo per quanto riguarda la normativa per il controllo del dolore, ma più che altro perché riconosce il dolore cronico come malattia. Quindi una legge c'è, una legge molto importante, solo che purtroppo questa legge è disattesa. Non è disattesa dai medici, ma è disattesa dalle strutture. Quindi non abbiamo attualmente in Italia strutture sufficienti per il controllo del dolore cronico o per seguire tutti quei numerosissimi pazienti che fanno riferimento alle strutture ospedaliali, alle strutture territoriali per il controllo del dolore cronico, ne abbiamo intrapreso una campagna culturale importante sia a livello universitario sia a livello di medici di medicina generale atta a formare gli stessi medici di medicina generale e le nuove leve dei medici ospedalieri alla considerazione e al controllo del dolore. La situazione italiana è a macchia di leopardo. Esistono delle regioni nelle quali la terapia del dolore viene effettuata in maniera organica e in maniera organizzata e delle regioni invece nelle quali purtroppo non esistono o esistono pochissimo dei centri di riferimento per la terapia del dolore. In Toscana, e probabilmente questo è dovuto al fatto che la Toscana è partita da molti anni sotto un po' la spinta di noi terapisti del dolore, l'organizzazione della terapia del dolore è abbastanza codificata. Esistono due unità operative complesse di terapia del dolore, alle quali afferiscono i pazienti che non possono essere trattati nei centri più piccoli e negli ospedali più periferici. Il percorso del paziente Il percorso del paziente normalmente parte dal medico di medicina generale. Il medico di medicina generale che di fronte a un paziente con un dolore cronico, un dolore neuropatico, chiaramente usa prima i farmaci e là dove il paziente non risponde a questo tipo di trattamento, lo invia al centro più vicino di terapia del dolore, quindi che può essere anche un ambulatorio o un semplice ambulatorio gestito da anestesisti part time. Da lì, se le risposte non sono sufficienti, il paziente viene inviato al centro più complesso, in questo caso viene inviato a Pisa o nel centro della Toscana viene inviato a Firenze. Nei centri complessi di terapia del dolore vengono attuati invece quei trattamenti che non possono essere eseguiti per un problema di costi e un problema anche di preparazione dei medici nei centri più piccoli. Quindi nelle nostre unità operative il paziente può essere trattato sia con tecniche di neuromodulazione transitoria che di neuromodulazione definitiva per il controllo appunto del dolore neuropatico. La neuromodulazione è stata fin dall'inizio un'ottima tecnica per il trattamento del dolore neuropatico. Non solo, direi non solo perché con le tecniche di neuromodulazione sottocutanea adesso possiamo trattare anche quei dolori nocicettivi che molto spesso costringevano pazienti a fare per lunghissimo tempo o addirittura per tutta la vita trattamenti con opioidi o altri farmaci. Per quanto riguarda invece il dolore neuropatico, veramente la neuromodulazione ci ha permesso di fare dei passi da gigante. Al fine di ottenere dei buoni risultati nei pazienti impiantati con neurostimolatore è molto molto importante un'ottima selezione del paziente. Un'ottima selezione che deve essere fatta in maniera multidisciplinare da più specialisti. Questo ci porta ad avere degli ottimi risultati sia nel controllo del dolore che nella qualità di vita dei pazienti impiantati. È molto importante che questi pazienti abbiano dei centri di riferimento multispecialistici e dei centri di riferimento che hanno un buon numero di impianti. L'importante però è avere un'equipe che riesca a fare un ottimo follow up del paziente perché il paziente molto spesso ha bisogno di ricorrere continuamente al centro non solo per gli aggiustamenti logici e normali per quanto riguarda la tecnica della neurostimolazione ma anche per quanto riguarda un follow up da parte di uno psicologo, da parte degli specialisti. Ormai ci siamo resi conto che sia il mercato quanto la richiesta di mercato va verso i dispositivi ricaricabili. Non solo perché nel lungo periodo rappresentano anche una riduzione dei costi e della spesa sanitaria ma anche perché rappresentano veramente un ulteriore miglioramento alla qualità di vita dei pazienti. Quindi noi riserviamo solo i dispositivi non ricaricabili per quei pazienti ultraottantenni per i quali già un miglioramento della qualità di vita per gli anni residui per noi è sufficiente. Un paziente che è affetto dal dolore cronico si deve rivolgere al suo medico di medicina generale. Lui saprà sicuramente indicarli qual è il centro di terapia del dolore più vicino e quindi saprà dargli anche quelle che sono le indicazioni più giuste. E li potrà anche cominciare a parlare di quella che è la neurostimolazione che sono i trattamenti quindi per il suo tipo di dolore e anticiparli quello che invece li verrà poi offerto dai centri di terapia del dolore che come vi dicevo devono essere dei centri altamente specialistici e dei centri organizzati non solo per l'impianto ma anche per il follow up del paziente. Cosa vediamo nel futuro? Auspichiamo prima di tutto che la legge del 2010 venga applicata nella sua totalità e su tutto il territorio nazionale affinché non vi siano più queste situazioni a macchia di leopardo. Ma cosa più importante? Cioè auspichiamo che venga realizzata sia una campagna informativa, media per la popolazione e per quanto riguarda la parte medica auspichiamo che l'università cominci a formare in maniera seria i terapisti del dolore che dovranno andare a sostituirci nel futuro.